Consigliare presso il Comune di Fiumicino per il 32esimo anniversario della nascita del Comune siamo con il Sindaco Mario Baccini che ringraziamo per l'intervista. Sindaco, tante autorità politiche, religiose, militari, un bellissimo momento, ci dica cosa ne pensi. Io tanto penso in questo momento ai nostri bonificatori prima che hanno con il loro lavoro creato le condizioni per una crescita di una città importante, il Comitato Costituente del Comune, i sindaci che mi hanno preceduto che hanno messo le basi di una grande città. Siamo partiti da poco più di 40.000 persone a quasi 90.000 e ci progettiamo arrivare a 100.000 persone quindi stiamo adeguando tutte le infrastrutture per migliorare la qualità e le opportunità di una città che si candida a diventare una città straordinaria oltre già le caratteristiche naturali che ha. Sindaco, le rubo un altro minuto per dirle che come lei sa Fiumicino corre verso i 100.000 abitanti. C'è un intervento che mi ha colpito sul fatto che Fiumicino è giudicata la porta ad Europa quindi Fiumicino sta diventando sempre più importante c'è un aeroporto internazionale, c'è il porto. La vostra amministrazione, la sua amministrazione, ormai incaricata un anno che progetti ci sono per il futuro? Intanto siamo inseriti nel progetto giubilare che ci dà delle infrastrutture importanti che possono essere un asset per una nuova variante urbanistica che si prepari per ospitare non solo persone ma riequilibri il territorio insomma una variante significa rispondere ai bisogni delle persone e delle imprese e migliorare la qualità della vita e quindi sono particolarmente contento di annunciare già a voi del faro che a breve faremo la minima conferenza urbanistica di Fiumicino. Grazie signor.